Feste sicuramente difficili e spero che la maggior parte di noi sia riusciti comunque a passarla in serenità magari con chi aveva vicino. Noi dobbiamo esserci, soprattutto per tutte quelle persone che a causa del Covid hanno perso un lavoro, hanno avuto difficoltà economiche, sono sole, quindi gli anziani, i disabili, le persone che sono veramente più in difficoltà e in fragilità. Cerchiamo soprattutto di fare in modo che questa crisi economica non trasformi un'emergenza sociale più importante di quella che in realtà è. Dovremmo concentrarvi per ricostruire quel senso di appartenenza alla comunità indispensabile per poter rendere importante e poter avere una qualità di vita migliore rispetto a quella che abbiamo avuto nel 2020. Speriamo proprio che questa epifania non solo porti via tutte le feste ma porti via anche un po' di dispiacere e cerchiamo di ripartire con un 2021 con un attimino un po' di ottimismo.